Ah, ma quanto ci piace a noi italiani investire nel mattone. In fondo, guardatelo, solido, compatto, resistente alle intemperie, ai brutti periodi sui mercati, qualsiasi cosa accade lui rimane lì, inamovibile. Però pesa anche un cifro, è molto difficile da maneggiare. E per chi ancora non l'avesse capito, no, ovviamente, non sto parlando di questo tipo di mattone, ma dell'immobiliare. L'immobiliare è un asset come tanti altri, ma mentre nel caso di azioni, obbligazioni, cripto, etf, possiamo comprarle con un click, beh, in questo caso non è proprio così semplice. Ci sono mutui, contratti d'affitto, rogiti, compravendite, insomma, non proprio una passeggiata. Ma se invece vi dicessi che esiste un metodo per investire nel mercato immobiliare risparmiandosi tutte queste rogne e allo stesso tempo potendo garantirsi così dei rendimenti, dei dividendi, come con i rate. Ciao a tutti ragazzi, io sono Pietro e benvenuti in questo nuovo video. Vi avevo già parlato dei rate, a dire il vero, ma quel video ormai ha più di tre anni e se dovessi farlo oggi lo rifarei in modo molto diverso. Quindi, eccomi qui. Ma partiamo subito con le basi. Rate sta per Real Estate Investment Trust. Questa è la sigla per il mercato internazionale, mentre nel caso del mercato italiano si parla di SIC, che sta per Società di Investimento Immobiliari Quotate. Se seguite il canale da un po' mi avete già sentito parlare di rate. L'ultimo caso è stato quello di COI, ma un rate, anzi meglio, un SIC italiano, dove avevo fatto anche un'operazione. Ma oggi voglio invece fare un discorso un po' più generico, non limitandomi a un singolo titolo, ma fare un po' una panoramica sul mondo dei rate per capire se questi possono essere un buon investimento, anche e soprattutto in relazione al momento attuale, che diciamocelo è abbastanza insolito. I rate, o SIC, ma per ora limitiamoci a chiamarli rate, sono delle aziende che come attività principale hanno quella di comprare e vendere degli immobili e soprattutto metterli in affitto ricevendo così dei canoni di locazione, degli affitti. Vedremo poi che ci sono anche altri tipi di rate, ma nel 90% dei casi e nell'ambito di questo video diciamo che è così. Possono essere immobili di qualsiasi tipo, commerciali, residenziali, ma questo non cambia alla base. Dobbiamo capire che il bilancio di un'azienda tipo ha come fatturato i canoni di locazione, come tutti i tipi di costi invece quelli che sono da sostenere per la gestione di un immobile. Costi operativi come manutenzione, gestione e quindi il netto all'azienda è ciò che rimane. Inoltre a parte, quindi non nel conto economico, ci sono tutta una serie di movimenti che vengono fatti perché vengono regolarmente acquistati nuovi immobili e rivenduti altri che l'azienda aveva in portafogli. Con l'unica differenza che quando questi movimenti li fanno delle aziende standard si tratta di un evento particolare, hanno comprato un immobile, qui invece è un po' la realtà quotidiana. Iniziamo con il dire una cosa molto particolare. Le quote, o meglio dire se vogliamo essere precisi, unità dei rate, sono sostanzialmente come le azioni, ma c'è una differenza molto specifica. I rate, se rispettano determinati requisiti normativi, possono avere un trattamento fiscale migliore, pagano meno tasse brutalmente. Ci sono tutta una serie di requisiti e uno di questi è che una percentuale molto alta dei profitti venga distribuita ai proprietari delle quote o unità a fine anno. E ripeto, devono. Se non lo fanno non succede niente dal punto di vista legale, non è un obbligo che se non succede va in prigione, ma perdono il loro status di rate, che hanno tutto invece l'interesse a mantenere perché questo gli consente di pagare meno tasse. Apro una piccola parentesi, l'obbligo sta nel distribuire una percentuale dell'utile. Se a fine anno questo rate per x motivi ha perso soldi, è chiaro che non dovrà rilasciare nessun dividendo. I rate, quindi, per queste caratteristiche, sono interessanti per principalmente tre motivi. Numero uno è un investimento in grado di produrre delle rendite, dei dividendi, che possiamo quindi ragionevolmente aspettarci e su cui anche possiamo fare affidamento. Numero due è un modo per investire sul mercato immobiliare e quindi se il mercato immobiliare sale, queste quote di rate andranno a valere di più. Numero tre rappresentano un modo interessante per diversificare, così da non avere solamente azioni in portafoglio, ma avere un portafoglio quanto più bilanciato. Infatti, come vedremo tra poco, i rate e le azioni sono sì correlate in parte, ma non esattamente, quindi è un modo davvero interessante per diversificare. Ok, ma approfondiamo bene i rate. Prima di entrare nel vivo, facciamo una distinzione molto importante tra i due tipi fondamentali di rate. Abbiamo i rate azionari o equity e i rate ipotecari mortgage. I primi investono in proprietà immobiliari, esattamente come ho spiegato prima, le mettono in affitto e raccolgono così gli canoni di locazione. Nel secondo caso, i rate ipotecari semplicemente investono in mutui e quindi raccolgono gli interessi che poi si vanno a ricevere sui mutui. Questo secondo tipo di rate tipicamente paga dei dividendi veramente alti, si arriva anche a cose dell'ordine del 10%. Peccato che siano molto molto dipendenti dal fattore tassi, quindi se i tassi tendono ad aumentare, questi rate di solito vengono abbastanza masciullati. Quello che però secondo me è davvero interessante approfondire sono le categorie di rate. Quelli a cui ci viene subito in mente pensare sono i rate residenziali, quindi quelli che possiedono delle proprietà dove poi la gente vive. Da un po' di tempo a questa parte, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, la tendenza è quella a spingersi un pochino di più verso l'affitto piuttosto che acquistare casa e ciò equivale sostanzialmente per questa tipologia dei rate a guadagni stabili, costanti anche in leggera crescita. Abbiamo poi i rate commerciali che all'interno comprendono categorie come negozi, centri commerciali, uffici, che proprio a causa della pandemia e del trend dell'e-commerce ultimamente non se la sono passati benissimo. Ci sono poi i rate che gestiscono proprietà che hanno funzione di centri logistici, quindi sono degli enormi centri, dei magazzini spesso utilizzati da corrieri o compagnie che fanno spedizioni e questi al contrario con i trend dell'e-commerce che diventano sempre più presenti stanno diventando molto stabili e interessanti per potenziali rendimenti. C'è poi una categoria tutta a parte che sono i rate sanitari, in questo caso parliamo di proprietà come ad esempio ospedali o anche strutture come ospizi e case di riposo, che quindi si muovono un po' in assincrono rispetto al resto dell'economia perché parliamo di esigenze primarie. Ci sono poi i rate che gestiscono proprietà di accoglienza come ad esempio hotel e in questo caso però la concorrenza di servizi come Booking, Airbnb e soprattutto gli ultimi anni pandemici hanno veramente dato filo da torcere a questa categoria di immobile e che quindi non se l'è passata benissimo ma non solo, si teme proprio che i danni in futuro saranno permanenti, quindi non si riuscirà mai più a recuperare. Ultima categoria di cui vi parlo oggi ma è l'ultima di questo video, ce ne sarebbero tantissime altre da approfondire, sono rate che gestiscono proprietà un po' più tecniche, quindi parliamo di data center, quindi dei centri pieni di server, di macchine, di aziende, magari aziende terze, oppure delle torri di comunicazione, quindi delle antenne. Per quanto riguarda i primi la domanda futura ci si aspetta che sarà davvero tanto elevata e chiaramente questi rate oggi stanno già scontando un po' il tutto, infatti sono tra i rate alle valutazioni più alte però è da riparametrare al resto, mentre per quanto riguarda i rate di telecomunicazioni di solito non ci sono stati grandissimi movimenti negli anni perché tendenzialmente il settore tra alti e bassi tende a rimanere sempre costante. Adesso riportiamo però il discorso all'attualità. In questa fase i tassi stanno salendo tantissimo, ciò avrà sicuramente un impatto sui mutui, sull'immobiliare, ma in questo caso sui rate. Che cosa possiamo dire? Possiamo andare a vedere dei dati storici per capire come si sono comportati i rate sia in fasi di aumento dei tassi sia in fasi di inflazione. Secondo uno studio di Standard & Poor's dall'inizio degli anni 70 ci sono stati sei periodi durante i quali i rendimenti del buono del tesoro decennale statunitensi sono aumentati in modo significativo, esattamente come quello che è appena successo. In ben quattro di quei sei periodi i rate statunitensi hanno ottenuto rendimenti positivi e nella metà di questi periodi i rate hanno addirittura sovraperformato l'S&P 500. Ricordiamoci come sempre però che quello che è successo in passato non è detto che risuccederà in futuro e due che questi dati andrebbero analizzati dal punto di vista fondamentale, quindi per chiedersi quale sia il comportamento al netto di quello che è successo in passato, ma devono fornire uno spunto di riflessione. Altra cosa che c'è da tenere in considerazione è il discorso relativo all'inflazione. Io prima vi ho voluto fare una panoramica sulle categorie di rate per farvi capire, e già secondo me tanti tra voi all'ascolto lo stanno pensando, che non sono tutti uguali i rate. L'immobile non è uguale, dipende molto dal tipo di immobile, dalla destinazione d'uso e in una fase di recessione anche, beh non tutti se la passano allo stesso modo. Il fattore chiave per capire quanto è sensibile un rate all'aumento dei tassi di interesse è la durata dei canoni di locazione. Più questi sono lunghi, più ormai il rate è un po' ingabbiato, con le mani legate, non può farci niente, ormai ha un contratto d'affitto e deve onorarlo. I centri logistici per esempio hanno dei canoni di locazione spesso a breve termine, inferiori anche a un anno, che spesso quindi gli consentono di cambiare e regolare gli affitti in base proprio all'aumento dei tassi di interesse. D'altra parte invece strutture ospedaliere, sanitarie, hanno spesso per ragioni fondamentali dei contratti molto lunghi, 10-15 anni e quindi se questi contratti sono stati sottoscritti quando i tassi erano estremamente bassi, beh allora non è molto vantaggioso perché questa gente qua deve rispettare 10 anni di contratto quando in realtà i tassi all'esterno stanno salendo. Nello stesso studio infatti si può notare come i rate con canoni a breve termine hanno mostrato una chiara tendenza a sovraperformare il mercato dei rate intero durante un contesto di aumento dei tassi, quindi in questa fase sarebbero da preferire. Ultima cosa fondamentale, siccome lo so che dopo questi video tanti saranno curiosi di andare ad approfondire i rate, però lo faranno con la mentalità di chi è abituato a trattare le azioni. Non fatelo. I rate si presentano come azioni, si comprano come azioni, hanno dei bilanci esattamente come le azioni ma non sono azioni, sono dei fondi immobiliari e questo significa che hanno delle metriche da valutare completamente diverse rispetto a quelle che siamo abituati a valutare nelle azioni. Utile netto, EBITDA, questa roba qui non serve a niente, il price to earning, il PA ratio non serve, è fuorviante. Quando guardiamo azioni da dividendi spesso cos'è che facciamo? Andiamo a vedere il payout ratio per vedere se il dividendo è sostenibile. Qui non si fa, queste robe qui non vanno fatte. Ci sono delle misure molto specifiche nel mondo dei rate, FFO per esempio, funds from operation, AFFO che sono la stessa misura di prima però aggiustata per alcuni cambiamenti e alcune piccole modifiche. Spesso si va a vedere il NAV, net asset value, quindi il valore degli immobili meno tutti i debiti che la società ha contratto e bisogna essere anche un pochino conservativi perché spesso il valore degli immobili non è proprio esattamente quello di mercato e anche i multipli sono completamente diversi. Si guarda per esempio il price to FFO, non il prezzo utile perché non ci sono gli utili. Non fatevi quindi ingannare da prezzi utili apparentemente super bassi come 2 o cose del genere perché l'utile in quel caso è completamente sfasato e modificato da parametri temporanei e soprattutto non vi spaventate se vedete un payout ratio di 300% perché anche in quel caso non vale nulla. Bisogna studiare i bilanci, bisogna entrare, leggerseli, guardarli con attenzione e solo allora vi potrete fare un'idea chiara di come si valuta un rate. Una cosa che vi consiglio anche di fare è andare sul sito del rate e leggersi le presentazioni degli investitori che spesso comprendono un po' tutti i dati in maniera diciamo anche messa un po' bene e anche più comprensibile. Una volta che li avete studiati allora potete procedere ad analizzarne alcuni e io stesso lo sto facendo in questa fase, ce ne sono un paio che mi sembrano davvero interessanti anche per le valutazioni che hanno in questo momento. Parliamo di dividendi del 6-7% e anche relativamente sostenibili soprattutto per il secondo che vi dirò. Il primo è Innovative Industrial Properties che è un rate di cui vi avevo già parlato che è legato al mercato della cannabis. È un rate parecchio rischioso perché ha delle criticità per quanto riguarda le aziende che sono in affitto lì dentro. In una recessione potrebbero andare davvero male e quindi potrebbero perdere i cani di locazione e aspettare di dover trovare i nuovi inquilini. Quindi non è un rate semplicissimo da gestire ma è anche uno dei motivi per cui in questo momento rispetto alla media di mercato ha delle valutazioni decisamente invitanti. Il secondo che invece è molto più stabile a livello fondamentale è un rate quotato a Singapore. Una piccola parentesi su Singapore. Voi sapete tutti che bisogna pagare le tasse sui dividendi e a quello non si scappa. Inoltre bisogna pagarle anche sullo stato di provenienza quindi dividendo americano tasse americane e tasse italiane insomma vengono marciullati i dividendi. Nel caso di Singapore non è così c'è solo la tassa italiana. Il rate in questione è Keppel DC REIT dove DC sta per data center. Quindi è quel mercato molto molto interessante che vi accennavo prima. Il rate è molto molto interessante perché sono rialzista su Singapore in generale come gestione, come capacità di gestire affari immobiliari, di gestire patrimoni, quindi è molto interessante ma anche il settore dei data center in questa fase è veramente al top. Ovviamente io vi farò sapere quali saranno i miei prossimi acquisti ma in questo caso io volevo solo far sapere che sto guardando attentamente il settore perché in questa fase trovare aziende che pagano il 5-6% di dividendi e che lo riescono a fare perché a livello fondamentale sono solide non è per niente semplice. Ovviamente ci aspettano dei periodi difficili avanti perché l'inflazione continua a galoppare e non tutti questi rate sono in grado di assorbirla, solo alcuni e bisognerà vedere quali effettivamente saranno in grado. E voi invece dite mi avete mai investito in rate, vi interessa il mercato immobiliare? Insomma fatemi sapere qui sotto nei commenti soprattutto se vi piacerebbe sapere magari un approfondimento su uno di questi rate, voler vedere un'analisi secondo me sarebbe super interessante. Per oggi ragazzi è davvero tutto, io vi saluto e alla prossima!